buongiorno dalla redazione di firenze smart in studio marco gargini iniziamo dalla 11 dove in direzione firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra pistoia e l'allacciamento con la 1 e 3 chilometri di coda per viabilità esterna che non riceve tra firenze ovest e peretola spostandoci sulla fibilico dei attratti per viabilità esterna che non riceve tra ginestra fiorentina e firenze scandici in direzione firenze per quanto riguarda la viabilità cittadina firenze in viale belfiore fino al 28 settembre resterà chiuso il tratto compreso tra il numero civico 6 barra c e il numero 4 alla fine del controviale muoversi in toscana è un servizio in collaborazione con regione toscana città metropolitana e comune di firenze buon viaggio grazie a tutti